Ciao, sono Lorenzo e bentornati su Mi Offro Io. Con lo scorso episodio abbiamo introdotto il concetto cruciale in economia di credito, che nasce proprio per soddisfare l'esigenza di impiego di risorse da parte di chi le possiede ma non le utilizza, i cosiddetti soggetti in avanzo, nei confronti di chi non le possiede ma ne avrebbe bisogno, i cosiddetti soggetti in disavanzo. Stiamo mettendo l'accento sul fatto che il credito, e corrispondentemente il debito, serve a spostare nel tempo l'impiego delle risorse. Chi infatti eroga un credito ne sta spostando l'utilizzo nel futuro, quando riceverà indietro i propri soldi, mentre al contrario chi riceve un credito sta utilizzando ora risorse che poi, si spera, restituirà nel futuro. Questa concordanza temporale però non è sempre garantita. Per esempio, per avviare un'impresa un imprenditore contrarrà prestiti che potrà restituire soltanto a lungo termine, cioè quando la sua impresa diventerà abbastanza redditizia da permettergli di avere i soldi per ripagare il prestito. Mentre al contrario le famiglie vorranno investire i propri risparmi in strumenti più a breve termine, oppure non investirli affatto e semplicemente depositarli in un conto corrente. Gli intermediari finanziari, di cui fanno parte le banche, e i mercati finanziari quindi nascono non solo per mettere in comunicazione la domanda e l'offerta, cioè i soggetti in disavanzo e in avanzo, bensì anche per operare questa fondamentale trasformazione delle scadenze, cioè permettere che esigenze temporali diverse possano venire soddisfatte. In Italia le principali protagoniste del sistema finanziario sono le banche, per specificità anche storiche del nostro paese, al contrario ad esempio degli Stati Uniti, dove invece il ruolo maggiore viene svolto dai mercati finanziari. A prescindere da quali siano i soggetti dominanti, però è importante tenere a mente che il sistema finanziario è soggetto a precise regole e controlli, che vengono svolti dalle autorità di vigilanza. In Italia sono ad esempio la Consob o la Banca d'Italia. Quindi, pur essendo fondamentale avere un'educazione finanziaria per approcciarlo, lo scopo di questi video è appunto fornire questa educazione finanziaria di base, possiamo stare piuttosto tranquilli che esiste una precisa cornice legislativa dietro al mondo oscuro della finanza. Parliamo quindi delle banche, che non sono l'emblema della ricchezza, bensì imprese che possono allo stesso tempo concedere credito e raccogliere risparmio presso il pubblico, e sono gli unici intermediari finanziari a poterlo fare, secondo il testo unico bancario, al contrario ad esempio degli altri intermediari creditizi che non possono raccogliere risparmio. Ci sono varie tipologie di banca, a seconda della clientela a cui si rivolgono e del tipo di prodotti che offrono. Il tipo tradizionale, quello a cui pensiamo quando pensiamo alla banca, è quello detto commerciale o retail. Raccogliendo i depositi dei loro clienti, cioè banalmente quei soldi che vengono messi nei conti correnti, esse svolgono una fondamentale funzione monetaria, cioè garantiscono il valore della moneta bancaria, quella di cui abbiamo parlato nell'episodio 2. Ed è per questo motivo che sono soggette ad una estremamente rigida vigilanza, ed è anche il motivo per cui quando una banca fallisce, i giornali fanno titoli di prima pagina, come purtroppo abbiamo imparato in questi ultimi anni. Oltre alla funzione monetaria, esse svolgono la funzione creditizia, cioè erogano prestiti a medio-lungo termine alle imprese, ad esempio, grazie ai soldi che vengono depositati, a breve termine, dai correntisti. Infine, esse hanno un ruolo cruciale nel trasmettere la politica monetaria dalla banca centrale europea al sistema economico. Come infatti abbiamo imparato nell'episodio 3, per contrastare l'inflazione, la banca centrale europea può variare i tassi di interesse, cioè gli interessi che essa applica sul denaro che presta alle varie banche europee. Di conseguenza, variando questi tassi, anche le differenti banche europee varieranno i tassi di interesse con i quali prestano i soldi ai propri clienti. È proprio per questo motivo che i tassi dei mutui sono aumentati così tanto negli ultimi mesi e si riflettono l'incremento dei tassi di interesse applicati dalla banca centrale europea. Giusto per menzionarli, già che parliamo di banche, altri tipi di banche possono svolgere servizi di private, di corporate e di investment banking nei confronti di altri intermediari, di imprese, di istituzioni pubbliche, anche di soggetti con grandi patrimoni. Oltre alle banche, abbiamo detto che esistono altri intermediari finanziari che sono specializzati nell'erogazione, per esempio, di finanziamenti. Pensate all'acquisto a rate o al leasing di un'automobile, presso un concessionario, oppure all'acquisto a rate di un nuovo telefono. Dietro alla possibilità di pagare in modo dilazionato nel tempo c'è sempre una cessione di credito che dovrà essere restituito insieme con gli interessi e questi interessi vengono quantificati dal TAN, il tasso annuo nominale. In realtà, oltre agli interessi, ci sono sempre da pagare altre spese inerenti il finanziamento ed è per questo che per legge gli intermediari creditizi devono specificare quale sia il TAEG, cioè il Tasso Annuo Effettivo Globale, che tiene conto non solo degli interessi ma anche di tutte queste altre spese accessorie. Possiamo quindi riprendere lo schema che avevamo visto nello scorso episodio e aggiungere, oltre a famiglie e imprese, anche il sistema finanziario con i soggetti quali le banche, gli altri intermediari e gli investitori istituzionali come i fondi di investimento e le assicurazioni. E aggiungiamo infine anche i mercati finanziari che sono le siri dove si scambiano gli strumenti finanziari. Questi non sono altro che mercati, così come quelli che abbiamo incontrato nell'episodio 1, dove però non si scambiano beni o servizi, bensì questi strumenti finanziari come azioni o obbligazioni. Sempre che siano competitivi, varrà anche qui la legge della domanda e dell'offerta che abbiamo imparato a conoscere nel primo episodio e sarà proprio questa a determinare quale sia il prezzo a cui tali strumenti vengono scambiati. Una cosa di cui è fondamentale parlare qui è il ruolo dell'informazione nei mercati. Spesso, infatti, i soggetti che vendono e quelli che comprano non possiedono la stessa quantità di informazioni in merito all'oggetto dello scambio. E questa asimmetria informativa può giocare sia a nostro vantaggio che a nostro svantaggio. Immaginate, ad esempio, di voler vendere un oggetto usato e però di tacere sulla quantità di danni che so subito in passato. Questa è una condizione in cui siamo avvantaggiati dal lato dei venditori, ma in cui invece saremmo svantaggiati se fossimo gli acquirenti di questo oggetto usato. Nel caso dei mercati finanziari, inoltre, il dirigente di un'azienda che venga a conoscere in anticipo delle buone notizie riguardo all'azienda stessa potrebbe decidere di comprare azioni dell'azienda per poi vedere il loro valore crescere non appena la notizia diventa pubblica. Per questo motivo, esistono direttive specifiche volte a prevenire, nel caso anche punire, gli abusi di mercato e anche rivolte al ruolo degli intermediari finanziari che devono non solo fornire tutte le informazioni rilevanti e necessarie ai propri clienti, ma anche valutare l'adeguatezza e l'appropriatezza degli strumenti che offrono anche in relazione al livello di educazione finanziaria dei propri clienti. E quindi con questo episodio abbiamo visto quali siano i soggetti che operano nel sistema finanziario ed ora che abbiamo le basi e sappiamo cosa siano le banche, gli intermediari creditizi e i mercati finanziari potremo ritornare sui concetti di investimento di rischio, di capitalizzazione e anche di finanziamento nei prossimi episodi dopo un breve detour nel mondo delle tasse. Quindi questo era tutto quanto volevo dirvi io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui fatemi sapere nei commenti commenti, critiche e domande e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.